Oggi aprire una fabbrica di stocchi perché si mettono tanti e poi mi faccio lavorare per piccolare e mi avvicinò una stocciata povere e mi avvicinò un tecchi stocchi con la gamba in casa viene a lavorare e mi avvicinò una fabbrica di stocchi perché mi avvicinò un tecchi stocchi e mi avvicinò un tecchi stocchi e mi avvicinò un tecchi stocchi